Vivere. Professor Bassetti ci dia un consiglio domani è Pasqua, ci vedremo tutti quanti insieme con le nostre famiglie. C'è la Dengue che si aggira per il Sud America, no? Brasile-Argentina, che è portata da una zanzara. Quali accortezze dobbiamo avere? So che c'è stato anche un caso nella sua Genova e anche nella Genova di Marcello Cesena, peraltro. Bassetti. Allora, diciamo che intanto non bisogna fare nessun alarmismo, ci sono casi di importazione, cioè quelli che arrivano dal Sud America, nel caso di Genova è una persona che arrivava dall'Argentina, ci sono persone che arrivano dal Brasile, da altri paesi del Sud America. Bisogna però fare attenzione solo su una cosa molto importante, bisogna fare la disinfestazione, cioè usare gli insetticidi, soprattutto gli larvicidi, da adesso fino al mese di aprile-maggio. Perché? Perché se una persona con la Dengue che torna da un paese endepico viene punta da una zanzara tigre da noi, potrebbe questa zanzara tigre pungere qualcun altro e quindi dare corso a un nuovo caso autoctono. Quindi, raccomandiamoci ai comuni... Praticamente, gli unguenti, quelli contro le zanzare, funzionano oppure no contro questa zanzara tigre? Assolutamente sì. Cerchiamo di usare gli unguenti, cerchiamo di usare le zanzariere, cerchiamo di usare indumenti possibilmente chiari e non scuri, così le zanzare non sono attirate e non ci pungono. Però, al momento, tranquillizziamo tutti che è un problema del Sud America. Bene, e speriamo che il resto Italia, anzi speriamo che si risolva la situazione del Sud America. Questo batterio mangia carne del Giappone, perché ogni settimana c'è una nuova, cos'è? Allora, intanto piace tanto ai giornalisti chiamarlo mangia carne, nella realtà è lo streptococcus piogenes, cioè quello stesso streptococco che dà il mal di gola nei bambini e dà la scarlattina, che può, in alcuni casi, grazie a una variante, le abbiamo imparate le varianti col Covid, dare un quadro di uno shock tossico, che quando colpisce la pelle può dare, si chiama mangia carne, perché può dare una gangrena. Però non solo, può essere uno shock tossico, anche che colpisce altri organi. In Giappone, in questo momento, c'è una situazione, diciamo, non dico di emergenza, ma di una gangrena di circolazione. Noi, in Italia, in particolare in Liguria, abbiamo guardato quanti casi abbiamo avuto di questo streptococco negli ultimi 15 mesi e abbiamo avuto 57 casi. Quindi, lo streptococco mangia carne c'è anche da noi, c'è in molti altri paesi. Dobbiamo cercare di non fare allarmismo, ma cercare di attrezzarci, perché grazie a terapie antibiotiche, interventi precoci, si può ridurre in maniera significativa la mortalità. L'ultima domanda. Questa settimana, la Premier Giorgia Meloni ha dichiarato che il Governo andrà fino in fondo riguardo agli effetti avversi dei vaccini Covid. Sui giornali qualcuno ha scritto che strizzava l'occhio ai Novax. Cosa ne pensa, Bassetti? Ma io credo che sia un messaggio per chi ha avuto eventi avversi. Fondamentalmente deve sapere che i luoghi dove si denunciano non sono la televisione, non sono i giornali, non sono le piazze, ma sono gli organi deputati a livello delle ASL e a livello del Ministero della Salute. Quindi io spero che fosse un richiamo a dire a chi ha avuto degli eventi avversi di rivolgersi alle strutture competenti, perché nella realtà quello che abbiamo assistito negli ultimi anni è di tantissime persone che denunciano di aver avuto eventi avversi, ma poi nella realtà nelle strutture ospedaliere, nelle strutture territoriali arrivano molte meno denunce di quelle che si vedono sui giornali. E chissà perché? È un appello, credo. E chissà perché, professore? Questo io dico che bisogna denunciarlo nelle sedi opportune. I medici sono lì per vedere se c'è un nesso causa-effetto tra il vaccino e l'eventuale effetto collaterale. Allo Stato quali effetti collaterali hanno avuto i vaccini? Cosa avete appurato? Che cosa si sa? Lei è uno strendo difensore dei vaccini. Gli effetti collaterali dei vaccini sono stati effetti straordinariamente positivi. Abbiamo risparmiato milioni di morti del mondo, quindi i vaccini sono uno straordinario strumento con cui abbiamo combattuto il Covid e con cui si combattono le malattie infettive. Come tutti i farmaci e anche i vaccini possono avere degli effetti collaterali, però cerchiamo di evitare di dire che i vaccini fanno male, perché questa è una comunicazione che evidentemente mi trova completamente discordante. Grazie professor Bassecchi. Prima di salutarci voglio ricordarvi, sono giorni magari un po' più tranquilli, siete partite, siete in partenza. Date una lettura a Un luogo sicuro, che è il primo romanzo di Marcello Cesena, che poi si riallaccia col tema dell'inclusione che abbiamo trattato anche ora, perché tu immagini due donne... In un mondo in cui è avvenuto un attentato, quello di Parigi, che purtroppo si è ripetuto adesso a Mosca, due donne che hanno un incontro e uno scontro in questo ambiente. Una delle due donne è una profuga araba, l'altra donna è una regista di grande successo francese. E riescono ad entrare in contatto e come? Riescono attraverso la storia che questa ragazza dà, regala a questa regista, ma a un certo punto questo incontro diventa uno scontro.